Buongiorno, appena sveglia, adesso ci prepariamo, oggi è il grande giorno del levanto e poi andiamo allo studio. Stanca? Un pochino? Jessie? 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 Oh, Jessie amore, dormi? Ci pensate che stiamo facendo il primo evento ASMR in Italia? Ma non è fantastico? Ok, mi sono dato lo sistema dal volo, adesso mi vesto e faccio operazione. Guardate chi è arrivata, Fiore, ciao! E poi c'è Kiki che sta, vediamo se riesco a passare, qui, sto scrivendo qualche appunto, sto scrivendo qualche appunto. Noi siamo in fase di microfonazione e tablaggio. Ci vediamo dopo. Ciao! 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 Non dare esattamente quello che sentono tutti Ma sai quanto bassa? Non deve esistere quasi Intanto io sto mangiando allegramente Dobbiamo pure andare a fare fatolissora Hai visto che te mi disprezzavi il popcorn e invece ci ha servito No no, mi serviva il popcorn Questo è altissimo Come è altissimo? Aspetta, forse perché la porto aperto Come sentite? Prova questo Fede, 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 fede Che bello Che emozione Che bello Questo è un esperimento fantastico La prima volta Sono emozionata C'è un arrivo Pronto? Senti Pronto? Che bello 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 ok ci siamo no questo è un vlog ci siamo abbiamo terminato proprio adesso il primo turno e ci apprestiamo a preparare l'altro siamo super 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 soddisfatte di com'è andato questa prima sessione e anche se queste luci sono un po' stane bene ne toglieremo altre cosa di diverso che solitamente attraverso i video non riuscite a sperimentare infatti durante questa sessione ci sarà ovviamente una parte di suono e sarà molto molto importante che voi ci lasciate poi un vostro feedback vorrei proprio su questo e quindi ce lo spiegherò a lui e poi inizieremo e vi spiegherò un po' di cose anche tecniche e poi inizieremo e vi spiegherò un po' direi che il vlog il vlog cos'è il vlog? il vlog può concludersi qui abbiamo appena mangiato una fantastica pizza da berbere e siamo in attesa di Dani che dobbiamo riaccompagnare all'albergo e quindi ciao a tutte le persone che sono venute a quelle che non sono venute spero che sia stato interessante, bello sta piovendo e quindi niente bacini super fatosi ciao bene sono mezzanotte e 9 e a mezzanotte e 9 e sono tornata sana e salva a casa dopo aver beccato il diluvio universale sono super contenta adesso veramente ho bisogno di sciacquarvi un po' e andare a nanna c'è anche Fiore che dormiva con me quindi ci vediamo alla prossima ciao ciao